Noi lo restituiremo in una specie di spinotto, probabilmente delle protezioni laterali, le due piccole travature laterali. Andiamo a ricordare, quando vediamo questo numero doppio, eccolo il parcheggio, come si parcheggia, passando per i birilli, ricordiamo ai piloti che non lo avessero ancora fatto, di venire a riconsegnare, trasfondere, ritirare il proprio documento di identità.